Era Pino Daniele con Amore Senza Fine a Radio Italia Solo Musica Italiana E adesso vorremmo invitarvi ad abbracciare anche voi un progetto che è decisamente meritevole Diventate genitori a distanza e avrete l'opportunità di partecipare a un'iniziativa concreta che si chiama Alice Reality Life Ma che cos'è l'adozione a distanza? Io vorrei chiederlo insieme a Gabriella a una nostra ascoltatrice e genitore a distanza, mamma della piccola Winfrey Intanto diamo il benvenuto a Tamara, ciao buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti Ciao Tamara, benvenuta Allora noi vogliamo proprio sapere da te perché sei voluta diventare genitore a distanza Io e la mia famiglia diciamo che era una cosa che volevamo fare già da tempo e abbiamo deciso di diventare genitore a distanza perché è una cosa bella è una cosa che ti fa stare bene, che ti dà un sacco di cose a noi ci ha reso felici sapere che con poco puoi aiutare concretamente un bambino e dargli speranza, dargli un futuro e sapere che questa speranza può venire da noi noi siamo veramente felici Questo è quello che pensate di dare voi, in questo caso alla piccola Winfrey ma che cosa ha dato a voi invece, a te e presumo il tuo compagno, il tuo marito questa esperienza? Sì, il mio marito abbiamo due figli e anche i nonni sinceramente abbiamo fatto questa scelta insieme a loro ma ci dà tanto perché comunque riceviamo delle lettere scambiamo mail, ci invia le foto, delle cose che fa delle letterine che scrive, ci scrive delle canzoni anche e poi soprattutto abbiamo la possibilità quando più o meno una volta al mese di poterle parlare via Skype appena mi ha visto e mi ha detto mamma è un'altra cosa quelle parole dalle sue labbra e mi ha commosso tanto, tanto mi ha emozionato e in famiglia ne abbiamo parlato per tanti giorni Tamara, grazie per questa emozionante testimonianza grazie a voi, grazie anche a voi, grazie mille, ciao a tutti ciao Tamara se anche voi volete diventare genitori a distanza avete un'opportunità per farlo anche in occasione di Alice Reality Life perché tra tutti i genitori a distanza e tra coloro che lo diventeranno entro il 27 settembre 2013 ne verrà scelto uno che potrà trascorrere una settimana in Kenya a fine ottobre insieme a tutti i bambini di Alice for Children e vivere così l'esperienza unica della solidarietà sul campo per informazioni AliceforChildren.it RadioItalia.it oppure chiamatelo 024545